Si vedete, attacca Pireus Caffa e Pompadour, c'è qualche contrasto, poi Pireus scavalcia Pompadour, torviene a largo Passione che sta completando la curva per andare ad attaccare il leader, il leader che si oppune e Passione che si adegua, stranamente, è così, primo quarto in 31 e 3, Passione cerca una posizione alla corda che non c'è, preferisce girare e all'argo, nuove prista di azzurra che va in schiena a Passione, andatura turistica 47 i primi 6, Passione ai fianchi del leader Pireus, lungo la corda Pompadour, all'argo prista di azzurra, chiude Panther Pride, 1 e 3 di 800, ha graduato a piacimento Pireus, si è adeguata la Passione che anzi perde qualche battuta in curva, chilometro in 1 e 19, Pireus Pompadour, Passione e Prista, adesso Prista di azzurra spinge Passione sul leader, è incisiva Prista di azzurra in terza ruota, ma Pireus sta controllando, non progredisce Passione, adesso si libera Pompadour ma è il leader, è saldo battistrada anche all'ingresso in retta, ci prova adesso Pireus, è avvicinato da Pompadour, Pireus taff, Pompadour, Passione vete, media probabile ad 1.16.4, arrivo a sorpresa, un minuto, l'ultimo giro, il 29.6 a chiudere, Pireus taff 12.20